Attacco sui pulpi, esco, blocco e colpo sul muscolo. Nervo, chinghieri militari, da qui, entro, sotto, scionare. Attacco sui muovaci, esco, andando a assorbire il calcio nel pulpero da ridevole e colpisco un contemporaneo sulla capicola. Quindi, chinghieri, come la gamba ritorna, quindi freggio e spunto la gamba finita in freggio per entrare in tema articolare.